Alberto Tomba, molto banalmente, la scia è la mia grande passione, mio papà è un maestro di scia, è il poster che avevo appeso in camera a 15 anni, quindi un mio eroe che ho avuto la fortuna di conoscere. Com'è stato quando hai conosciuto? È stato... è la realizzazione del sogno, quando incontri il tuo mito, ed è un mito vivente, ma soprattutto quando il tuo mito corrisponde esattamente all'idea che ti eri fatto del tuo mito, e non rimani deluso, è la più bella gioia che un bambino dentro può... io sono un bambino dentro che può ricevere, no? Alberto è una delle persone più divertenti e più piacevoli con cui io abbia mai avuto a che fare, ed è esattamente come me lo sognavo, è stato il mio eroe da piccolo e da adulto invece è stato... mi ha fatto concentrare sul fatto che non importa soltanto vincere.